Sicuramente è uno dei momenti più importanti perché si tenta sempre questa qualificazione e deve arrivare con una strana formula per cui ora dobbiamo battere la Lettonia, dobbiamo stare avanti a loro in classifica per poi cercare di vincere in casa con la Polonia, per cui è estremamente importante. I precedenti contro la Lettonia ci sorridono, soprattutto l'ultimo, quello giocato sul campo neutro delle Faroe, è pur vero che in campo internazionale ogni partita è una storia a sé e poi c'è da dire anche che la Lettonia ha cambiato guida tecnica. Sì, poi bisogna anche ricordarsi un'altra cosa, che la Lettonia fino a poco tempo fa era nettamente avanti a noi e adesso che abbiamo rianalizzato tante delle partite della Lettonia abbiamo visto immagini di quando erano agli europei per cui noi li abbiamo passati, diciamo così, abbiamo un bilancio favorevole negli scontri diretti però è cambiata completamente la squadra, è diventata da una parte meno forte ma sempre con una individualità importante. Nelle ultime partite con Francia e Polonia, sia nei tornei che hanno fatto a gennaio, si è vista una Lettonia priva di Christophans ed è un certo tipo di squadra. Con lui tutto diventa diverso perché poi bisogna cambiare difesa, perché lui batte le punizioni dai 9 metri in difesa cambia anche la difesa della Lettonia per cui è molto molto dipendente da questo terzino destro. Chiaramente il cambio di guida tecnica ha dato, secondo me, sprint, ha dato qualcosa in più perché l'allenatore che c'era prima si sentiva in una fase transitoria. Mentre per quanto riguarda l'Italia si riparte ovviamente dall'ossatura delle precedenti uscite, sono confermate rispetto all'ultima uscita, quella ufficiale in Croazia, con l'amichevole, i due giovanissimi, De Angelis e soprattutto Manolovic, sulla linea dei terzini. Sui terzini desti, lato dei Mancini, invece, rientra Max Pranter dopo l'infortunio, c'è la novità pugliese, come c'è la novità sulla linea dei pivot di Romei? Sì, la linea giovane dell'Italia non è per dire speriamo in un prossimo futuro, è perché secondo me sono i migliori giocatori da convocare. Questo semmai è un vantaggio, è un vantaggio per il futuro sicuramente. È una squadra che ha molte prospettive per il futuro, ma nello stesso tempo in questo momento è competitiva così com'è. Ci sono stati degli innesti, questo va nel nostro lavoro, che è a 360 gradi, vediamo anche tutte le squadre giovanili e per cui anche Romei si è aggregato alla Nazionale Senior. Dal punto di vista del ruolo dei Mancini, dei terzini destri, abbiamo convocato anche Pugliese, che va a rafforzare l'idea che abbiamo avuto una grande squadra, che è quella dei 2000 e 2001, una grande generazione perché è quasi presente al completo. Purtroppo l'assenza di Bortoli è un'assenza importante e in questo stage, in questo tipo di lavoro, dobbiamo capire quanto Max Prantner o Pugliese possono giocare per offrire le possibilità di avere un terzino destro Mancino. Il fatto che poi il lavoro di queste nazionali sia tutto integrato, organico, è dimostrato anche dal fatto che non c'entrano ovviamente con la nazionale che affronterà l'elettoria, ma in questi giorni si sono allenati qui a Chieti anche alcuni dei ragazzi del campus che non sono stati poi impegnati nelle varie uscite e che hanno avuto la possibilità di annusare l'area della nazionale senior e sono minuti impagabili per loro. Sono veramente fortunati i ragazzi del campus perché ci riflettevo proprio questa mattina Rossi penso che abbia preso più palle in questi due allenamenti che in due mesi di campus. Sicuramente per loro fare degli allenamenti insieme alla senior è oro colato, partecipano in pieno all'attività della senior, fanno video con gli altri, analizzano le partite insieme agli altri e fa capire un punto appunto qual è l'area. Questo è quando la filiera è tutta collegata con allenatori che hanno lo stesso obiettivo, si intendono, c'è feeling, sicuramente si vedrà una nazionale giocare sempre con una linea di gioco che è collegata a quella di partenza. In questo aiuta anche l'atmosfera di fondo della nazionale senior, abbiamo visto i veterani poi fare intanto da chiocce e scherzare, essere sempre collaborativi anche non solo nei tuoi confronti naturalmente perché permettono, agevolano anche il lavoro dell'allenatore ma nei confronti dei ragazzi più giovani. Diciamo che io ho una conduzione molto cooperativa per cui chi ha più esperienza, io attingo da chi ha esperienza, li voglio sentire e li lascio anche fare con i giovani fino a che non c'è nonnismo, fino a che non c'è sopruso, diciamo da un punto di vista tecnico viene tutto positivo. Devo dire che adesso manca Barisini che è il capitano ma uno dei capitani in campo Marrocchi e Bulsamini sono sempre sopra i giovani con parole di conforto e nello stesso tempo di sprone per cui è troppo bello e Marrocchi sta apportando una conoscenza anche tecnica importante a questi giovani.